Leadership situazionale, la danza sistemica di una leadership trasformativa. Il corso è finalizzato ad introdurre i partecipanti al modello di leadership situazionale che è stato sviluppato negli anni 70 dagli autori Hersey e Blanchard e questo attraverso un percorso di analisi critica con uno specifico riferimento alla individuazione e dal riconoscimento del proprio stile di leadership e quindi della diversa valenza che a tale proposito possono assumere le personali tendenze operative. Ora ciascuno di noi aderisce inconsapevolmente a determinati schemi comportamentali che vengono a costituire il limite all'interno del quale operiamo. Un primo passo importante quindi per migliorare le nostre capacità consiste proprio nel confronto riflessivo con le difficoltà che possiamo incontrare nell'avvicinarci a nuovi modelli di intervento. In questo senso uno specifico percorso autoriflessivo sviluppato attraverso un particolare modello di riflessione controistintiva vuole aiutare i partecipanti a riconoscere le proprie implicite tendenze che una volta individuate ci permettono di accedere ad un processo di cambiamento. Ecco allora che i concetti che sono alla base del modello di leadership situazionale possono emergere in tutta la loro efficacia offrendoci la possibilità di modellare il nostro stile di leadership partendo dalle nostre caratteristiche comportamentali ma sapendole coordinare con la capacità di valutare diversi livelli di maturità dei nostri collaboratori e questo sia a livello psicologico che a livello di esperienza professionale riuscendo al tempo stesso ad analizzare l'importanza ed il significato che il binomio relazione compito assume quale indicatore del bilanciamento necessario tra questi due poli comportamentali.